13 gennaio Vivo nella fede nel Figlio di Dio Galati 2,20 Il peso che ti fa andare avanti Un uomo che aveva ereditato dal nonno un antico orologio a pendolo Lo guardava spingere il gran peso avanti e indietro Che fardello per un orologio centenario, pensò Così un giorno aprì la cassa di vetro e sganciò il pendolo Perché hai rimosso il mio peso? Chiese l'orologio L'uomo replicò Era pesante e volevo alleggerire il tuo carico L'orologio esclamò Quello che non capisci è che il peso mi fa andare avanti Paolo disse Sono stato crocifisso con Cristo Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me La vita che vivo ora nella carne La vivo nella fede nel Figlio di Dio Il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me Galati 2,20 Dio permette prove e fardelli Per sviluppare la nostra pazienza e umiltà E farci dipendere sempre più da Lui in ogni cosa Al contrario di noi Egli sa che è il peso che fa andare avanti Ecco perché il Signore corregge quelli che Egli ama Che peso sta usando Dio per produrre la natura di Cristo in te? Caro lettore, sarà il peso di Dio a farti andare avanti nel cammino Se tu vivrai nella fede nel Figlio di Dio Dio per produrre la natura di Dio